L'ammodernamento dell'Ai45 e lo sblocco del viadotto Puleto sono state due delle questioni poste all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha partecipato all'Assemblea annuale di Ance Perugia. L'Umbria come risorsa, infrastrutture, ricostruzione e sviluppo, il tema dell'iniziativa dell'Associazione dei Costruttori e Dili di Confindustria, promossa per affrontare congiuntamente alcuni temi di importanza strategica per il settore per il territorio umbro. Dal cosiddetto decreto sblocca cantieri alle difficoltà della ricostruzione dopo il terremoto. Sei cantieri pesanti conclusi su 5.600 da avviare, è stato ricordato, fino alle questioni ancora aperte sulle infrastrutture umbre a partire dalla Perugiancona. Stiamo normalizzando e riequilibrando il sistema per poter operare in un paese straordinario come l'Italia, ha detto Toninelli, rivolgendosi alla platea di imprenditori.